Succhiare è un riflesso naturale che calma e conforta il tuo bambino. Da oggi puoi soddisfare il suo bisogno favorendo allo stesso tempo un corretto sviluppo della bocca e dei denti. Il succhietto Dental Safe è appositamente studiato per offrire al tuo piccolo il massimo comfort nella sozione, adattandosi perfettamente al suo palato. Frutto di molti anni di ricerche in collaborazione con rinomati dentisti, la sua tettarella ultra sottile e inclinata riduce del 90% la pressione sulle gengive. Il risultato è nel sorriso del tuo bimbo! Grazie! Grazie!